Il bambino! Oh no! Lo si può lasciare lì? Pasqui! Oh f***! Lo spero! Lo spero! Oh no! No, il win! No, il win! Mimic! Non ti voglio sgridare! Puoi ballare anche se hai quello in mano, mi sa! Ma davvero? Puoi indicare? No! Merda, vabbè balla! Vabbè puoi ballare quando hai roba in mano, anche se hai tipo un teammate in mano! Vabbè! Vabbè! I like a kill again! I like a kill again! It's a kill again! Ehi! He he! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Cil! Ehi! sento sento sei vivo? si ah non so ok 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 uno ha un colpo ecco un coiled stai guardando tu? si ho trovato un'altra munizione ah ok e adesso la droppate perchè non ho avuto tempo di sparare ah no i win basta che non mi spari perchè guarda che ha un raggio enorme io ci sto dietro ok no sto scherzando la safety è off ma no secondo te con due shotgun è il treno scusa che treno? secondo te è con fuori da casa mia ah ok scusa è il treno in game famoso scusa non capisco e dicevo se se abbiamo due shotgun il gigante lo ammazziamo? il gigante non prende danno non prende danno? no è una unità non uccidibile lo ammazza soltanto il verme ma perchè quirky e il verme è anche non uccidibile esatto porco dio minchia pensa però magari lo uccidi e poi puoi prenderci delle cose dentro famosamente il verme si mangia perchè ha sparato? non lo so non lo so però oh 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 ho una buona e una cattiva notizia la buona è che abbiamo ucciso il bracken la cattiva è che non abbiamo munizioni per il musket quindi facciamo attenzione non ci siamo non ci siamo non andate a destra cosa c'è? non andate a destra non ci andiamo però guarda non spiace va bene apri 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 ha perfettamente senso ha perfettamente senso non si va a destra infatti mi sono fidato dunque dunque Pasqui sei sentito il perchè non posso stare a fare mission control? si come sei lo stesso? tutti i cani hanno la ruota a me e io? e io? no no sei qua? uuuuuh ecco dio va bene incredibile se muoio prendo la pala e ammazzo si spero che non sanno neanche se a destra o a sinistra c'era ma guarda ecco era pure un piccolo cieco nooo e vabbè che culo andiamo alla perezza guardalo seguimi seguimi guardalo seguimi 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 qui di qui di qui di qui di qui 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 aspetta chiudo la porta? esci no si rientri io porto non è possibile però eh buona 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 avete il porte chiuso da aprire? bracca 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 l'ho sentito l'ho visto ti stava per mordere il culo e poi nel labirinto con me e nel labirinto vabbè vabbè ho la torcia l'agenda vuole servono tre colpi per uccidere ma tre più veloce non possono andiamo per forza andare lì se riuscissi sarebbe leggere l'aria però ho provato ancora no vabbè c'è altra in quella direzione? non lo sapremo c'è altra in quella direzione? il bracca su su no c'è il ecco ah c'è la com'è mi sa c'è la com'è mi sa qualche motivo no? è morto è morto è morto ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo merdo boh no non ci fa più paura niente adesso ste post una mina per comedy cassette è stata abbastanza anticlimatica si adesso ste post una mina per camera cassette ascoltate il live non c'è lì per forza fare il salto ah ok sono ucciso dove? oh oh merda non è possibile mi dispiace un casino mi sono girato un attimo no no nooo ma come cazzo è possibile? mi dai la torcela? ehm...tremo? ehm...sei vedo mi dispiace raga buone notizie però è caduta vero? no gotta gotta ci serve la chiave però le ho una eh si eccomi ma piccinina eh si dai la chiave? eh tieni ciao addio dovevo saltarlo ciao buona fortuna beh ehm vuoi picchiarlo? non so ui la micita ci sta? c'è l'America io c'ho nooo come è di un principe? oh nooo oh nooo è morto andiamo via ma a co non poteva entrare e qui è con lavera di premu e qui dietro e vabbè e vabbè voglio oh stai facendo da sola adesso eh sì no 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 infatti è colpa mia eh non ci riesco non riesco a prenderlo è proprio lì cazzo è qui via 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 eh aiutami un secondo voglio la croccia ok sei con l'ho visto a grab per un attimo ok è lì che tipo fa avanti indietro è lì giù è lì ah sperai è il corpo di qua porca puttana sta camperando l'entrata ma no è qua giù e dobbiamo andare no 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 è finito ecco l'hai fatto in cazzo sono morto è stato un piacere ahahahahaha ma ha camperato la porta si è la sua stanza ha 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 cioè io ho aperto la porta ho visto il tuo cadar oppure di correre fuori corri fuori corri fuori disastra chi sei un'acqua Coil Si, si scendeva non mi ricordo Allora seguimi, seguimi Ok, vi invito, vi invito, vi invito Si, non lo so guardando No, or caso, non lo so Allora qua Si, siamo sulivesodditorial Guardaanja, guarda non sono Eh, ti opero Ecco lo secco Sono un pirla Sono un pirla Però l'ho ucciso Sì 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 Non so come si torna a casa Nooo Dio porco Mi muo uccide Dio Portatemi Sì 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 Sì